Beh, osservando i vostri freschi volti giovanili, mi torna in mente quando anch'io stavo decidendo del mio futuro accademico in qualità di semplice specializzando. Avevo 14 anni. Ed ero già infinitamente più avanti di voi, nonostante dovesse andare a letto alle 21. Ora, potranno esserci una o due persone in questa stanza che hanno quel che serve per avere successo nel campo della fisica teorica, sebbene più plausibilmente passerete la vita di insegnare alle elementari come costruire vulcani con lava di bicarbonato di sodio.